Per quanto riguarda invece il processo produttivo di questa operazione, quanto siete partiti di più dalla parola scritta quanto dalla proiezione delle immagini interiori, l'atto che un regista fa, cioè quello di trasportare la propria visione interiore e applicarla sul mondo, cioè da dove siete partiti e qual è stato l'elemento preponderante, se c'è stato? Lui ha vissuto l'evento, lo ha personificato e lo ha riprodotto a modo suo, quindi lui in maniera artistica ha assorbito sia l'evento sia i miei testi e quindi ha offerto questo prodotto. Chiaramente le altre persone che io considero al pari, persone comuni, hanno lasciato, i loro messaggi che per me hanno una valenza ancora più importante e magari una persona comune che ti scrive dei pensieri, dei riscontri, delle cose che scrivi, lo trovo molto molto bello e soprattutto il riscontro, è quello che volevo io, cioè in cammino io vedevo gente che per fare, erano sette stanze, aveva impiegato addirittura un'ora e un quarto, quindi sembrava che stava lì e meditava, c'era una persona che lesse i testi quattro o cinque volte, poi era aperta fino a mezzanotte, quindi c'era anche un'atmosfera un po' particolare, molto bello. quindi diciamo sono tre i poli, tu, il regista, le persone... Sì, poi insomma sono state anche altre persone che sono subentrate, diciamo Roberto Falco che mi ha aiutato molto, anche Fabio De Santis che è un altro artista che aveva utilizzato queste stanze in un evento d'arte contemporanea suo e nel 2006, io nel 2008 l'ho fatto, però con una logica totalmente diversa questa. Io sarei curioso di sentire adesso, di sentirti raccontare un po' la tua esperienza in Libano a questo punto, come entra nella tua vita questo viaggio, come ne esce, se ne esce, insomma come arriva a inserirsi in questo caso? In realtà è stata un'esperienza abbastanza... è un progetto in collaborazione con TheBlogTV e con il servizio civile internazionale e il nostro compito era quello di dotare i cinque villaggi del sud del Libano di piattaforme blog per creare un network di comunicazione e quindi aiutarli a utilizzare tutte le strumentazioni necessarie, quindi dal video alla fotografia appunto il blog, quindi li abbiamo un attimino istruiti, facendo questo noi dovevamo girare molto, quindi andare in zone non consentite, in zone che erano protette anche da Hezbollah è stata molta formativa, chiaramente io ho assorbito determinate cose che poi mi hanno portato a fare questo, altri magari hanno visto solo l'aspetto magari vacanziere, chiamiamolo così, altri, quello lavorativo, c'è stata una, diciamo una mescola molto, molto varia, io ho assorbito quello... Pensavi già oltre insomma? No, ripeto, a me aveva colpito, poi aveva avuto anche delle esperienze personali molto, molto belle con delle persone lì del luogo e ho capito veramente che cosa significava magari vivere in quelle condizioni, magari subendo delle invasioni, ovunque sia facendole, però ripeto, non è che vorrei fare una apologia... No, no, più la tua esperienza umana e culturale... Ecco, quindi tornando qui ho rielaborato tutto e ho pensato a questo poi, no, da una ispirazione che poi si è concretizzata nel tempo piano piano e ormai è un anno e mezzo che abbiamo fatto questo progetto, l'abbiamo chiuso quest'estate, è stato anche molto, molto faticoso, terminato. E a questo punto la domanda, insomma, è già spontanea, in che cosa assomiglia la Marsica al Libano e viceversa? Ma l'idea era quello di avere delle macerie fondamentalmente, perché quel borgo era un etico di macerie, così come quelli due posti che potevano essere qualsiasi, diciamo, posti più disparati del mondo, cioè Libano potesse una metafora, perché ce ne stanno tanti, anche altri posti del terzo mondo che stanno anche peggio del Libano. Però l'idea della maceria creata magari dalla non curanza dell'uomo, come può essere o dal terremoto, come può essere l'esperienza nostra, è quella della guerra. Alla fine è sempre maceria. Perché Antrosano il trascorso di questo paese qual è? Della non curanza, lo sfrotto non curanza, abbandono, un po' il terremoto, sì, però non è mai stato curato come borgo. Non vi voglio ammorvare più di tanto perché, comunque sia, è bene che parlino poi le poesie. E quello che mi viene da pensare è il, che stava dicendo anche Paolo, era un aspetto, quello del Carnem Levare, cioè delle cluster bombs, che sono oggetti strani, adesso non entriamo nel tecnicismo, che sono contenute in una specie di, diciamo, di cluster, di grappolo, e nel loro interno ce ne sono centinaia. Il bello è che queste quando cadono a terra non esplodono, quindi restano esplose e cungono da mine anti uomo, suicidini però. E la cosa che mi rimase più impressa era un pochino l'odore arancido dei mandarini che c'era, io un pochino per farvelo vedere, noi adesso qui lo teniamo in mano e queste persone non potevano raccogliere i mandarini o le arance comunque, stavano lì a marcire. Quindi l'aspetto che mi colpì di più, che poi probabilmente nacque da questa ispirazione, era la privazione di terra. E lì pensai questo, quando inizi a sentire un qualcosa di marcio, un motore marcio sui beni essenziali, probabilmente poi ti toglieranno la terra sotto i piedi. Da là bisognerà stare attenti e quindi reagire in un certo senso. Quindi a quella domanda tu sei capace di spezzare le catene? Probabilmente dipende da uno di noi, io sicuramente da solo no, probabilmente da moltitudine sì. sono come i coriandoli, cadono su maschere bianche. E' un aratro che scava la terra, ferita di guerra. E' un nero che cade sul grano, è privazione di terra, è privazione di fame. Cadono poriandoli, maschere sinistre decapitano di loro boia, a colpi di pala, piccone e vanga. Sui tuoi altari inesplosi, che benedici Dio tuo, che nascosto tra maschere ne avrà bisogno anche noi. La carne è rigonchia, è sradicata, è l'ora del carnevale, è l'ora delle maschere sinistre, soltanto sinistre. Quelle che sognavi da bambino, quando il letto di lui dito mi nasconde. Allora, un vitello più, il cortometraggio come lo ha presentato Paolo da 20 minuti. Io prima di terminare volevo ringraziare l'Associazione Culturale Movimentazioni, la libreria Primo Moroni per questa opportunità. e poi anche il nostro canale, Popa Channel, che sta su YouTube. Tutto questo lo ritroveremo. Sì, magari a fine video chi vuole fare delle domande. C'era stata una prima versione in cui la donna non c'era. e Aitir ha cercato di aggiungere un altro elemento che era quella donna, che a suo modo di vedere rappresenta un pochino la metafisica, dovrebbe essere la poesia, quella donna coperta. E' un cammino mentale che si fa. Della donna, dici? E' una ricerca che può portare in qualsiasi parte. Cioè anche l'idea di questo lavoro non è circolare. Cioè non è che si deve necessariamente arrivare a una risposta. Infatti anche questa S rovesciata che avete visto con i testi, lascia uno spiraio. Quindi è un cammino che ognuno fa e poi ognuno trova le diverse risposte che può avere. La chiave potrebbe essere proprio quella chiave fisica. Può avere tanti significati. Cioè poi anche l'utilizzo della maschera, della chiave, cioè se viene sempre contestualizzata magari, può essere un argomento sempre uguale. Poi bisogna vedere come si utilizzano gli elementi. La maschera, la chiave possono avere diversi significati. La maschera per me avrebbe avuto il significato del carne a me levare, del togliere la carne. Dalla maschera dell'ipotesia che ha la gente, che hanno magari le nazioni più forti. Però è metafisica. Magari una persona normale può avere altri riscontri. Cioè non è che li impongono in questo senso, ci mangierebbe altro. che non è che ci sono un problema tra i quali... Sì, sì, questo è la... chiaramente uno cerca di dare... è sempre molto soggettiva. La poesia è molto... Non c'è una realtà simpaticica, no? Esatto. Infatti questo era proprio il discorso che abbiamo lasciato a metà sulla poesia di reportage. Cioè è abbastanza esplicita, è abbastanza... Ecco, reportage significa proprio riportare quello che uno vede. Però io non è che ho fatto la cronaca di quello che ho visto. L'ho un pochino rielaborata. Però, come dici tu, c'è stato un elemento forte e oggettivo che è riscontrabile, che è vero, che è chiaro. Grazie.